Leonardo Silva Revisore Io la mia storia racconto con la musica, attraverso la musica. La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale che arriva direttamente al cuore. Sonerò l'Allemanda, la seconda partita per il violino solo di Bach e il presto dall'estate di Vivaldi. La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale La musica mi aiuta a esprimere perché è un linguaggio universale grazie a tutti 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 grazie a tutti